E ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio nuovo video. Oggi sarò in compagnia di Ciao Mario e andiamo a fare la sfida tra cecchini. Mi arrabbio eh, io mi arrabbio. Ok. Ok ragazzi. Ok Matteo. Vi saluta. Ragazzi uscirà al più presto un video o di ARMS o di Minecraft oppure farò una prova a non ridere. Ma se io facessi così non si può fare. Ok benissimo. Allora ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina come sempre e condividete il video con tutti. E andate a iscrivervi al canale di Chiara. Vi lascio il link in descrizione. Gli ho detto che poi faremo un video insieme. Oppure gli faccio un video, glielo mando e lei lo pubblica. ragazzi preparatevi a un'intervista tripla. Entro stasera. Tra cui, no, intervista doppia purtroppo. Eh sì, purtroppo. Tra cui Matteo e Chiara. Saranno i due. Purtroppo, eh, intervista doppia, non intervista tripla. Che io dovrei registrare. Ragazzi, quindi aspettatevi un'intervista doppia stasera verso le non so che ore. Comunque presto, sarà presto, presto, verso l'una di notte. Porca se, purca casa. Matteo ha detto che è scarso. Ma in verità giocherà a season 1. E io lo apro. Scarso, Matteo. Non quittare. Io. Giocherò. Aspetta, ma se io metto così. Ah sì, così va. Giochiamo così. È molto meglio. Voi vedete? Io vedo bene. Matteo. Matteo è a livello 177. Raga, prendetevi la Nintendo Switch Lite. Perché la Nintendo Switch fa cagare. la livello 177. Vi dovete prendere. E non vi mettete... Non vi mettete... Aspetta, Matteo. E non vi mettete... Cosa ha fatto, Matteo? Matteo? Cioè... Cioè, ha fatto una cecchinata... Dalla sopra... Dalla sopra... Fino a... Quello... Cioè, là. Cioè, avete capito? Sono 291 metri, raga. Sono... Cioè... Cioè, raga. Di qua... Madonna, Matteo. Mi hai fatto una paura. Hai fatto... Cioè, stavi registrando? L'hai registrato? L'ha preso di nuovo. Però, non l'ha killato. Matteo, poi mandami il video che... Lo metto sul mio canale. E scrivo... Il cecchino... Il cecchino vivente. Il cecchino vivente. Sto cattie. Oh, ma... Che cosa mi stai facendo? Giro giro a tondo. Ragazzi, sappia il dare. Cos? No, ancora che non l'hai visto. Dov'è? Dov'è? Dov'è sto scarso, raga? Madonna. Scarsetto. Basta, fare lo scemo. O viene a fare un avion. E ora, raga, però... Scarsetto la videocamera. Che ci posso fare? Non è colpa mia. Il dio. Ehi, mi si rotto. Cazzinina. Mi ha ucciso! Mi ha ucciso! Ok, ragazzi. Qua si cancella Fortnite. Quindi solo video di Minecraft. Ehi, mi ha ucciso. No, Matta, non mi riuscire. Che? È volato? Sì, vabbè. Avete visto, raga? Spero che avete visto. Non ti apre. Col cecchino forse sì. Ma non avvio no. Normale no. Non me la prendere. È trappola. Call phrase. Ma� vom. Mal avvio. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.